Ventesima riunione della Commissione Energia e Ambiente del Comitato delle Regioni che si tiene in ragione della attuale presidenza lituana dell'Unione, si tiene a Vilnius in Lituania, i temi sono quelli dell'energia e dello sviluppo sostenibile ma c'è un aspetto in particolare che è quello dell'aerospazio, dell'aerospaziale, noi abbiamo costituito il distretto e questa di oggi è un'occasione importante per confrontarci sui temi dell'aerospaziale con gli altri paesi europei, è un momento di confronto molto costruttivo, sono opportunità di contatto che possono essere messe a sistema e valorizzate dal nostro consorzio che vede in Sardegna la realizzazione di questo distretto al quale partecipano degli operatori privati insieme agli operatori pubblici e l'obiettivo è quello di sviluppare questo settore, in particolare le eccellenze che già sono presenti nel nostro territorio, poter attrarre sempre nuove investitori, conoscenze e poter dare opportunità di sviluppo.